Monta e non poteva che essere così la polemica per l'annullamento dell'edizione 2018 del Mello Blocco, ma arrivano anche, a sorpresa, idee alternative. Come un fulmine a ciel sereno, la notizia anticipata mercoledì dai telegiornali di Telesondrio News si è diffusa in queste ore fra gli appassionati in Italia e non solo. L'associazione Operatori Valmasino, responsabile da anni dell'allestimento dell'evento internazionale di arrampicata, ha rinunciato all'organizzazione seminando delusione fra i circa 13.000 appassionati che ogni anno si danno appuntamento fra gli ormai celebri sassi della zona. Delusione mista a sorpresa. Le speranze di riuscire ad allestire l'evento erano infatti molte, soprattutto dopo la ritrovata collaborazione fra il Comune e il Comitato Organizzatore. Siamo tutti molto dispiaciuti, commenta oggi Sara Fiorelli, presidente dell'Associazione Operatori della Valmasino. Ci abbiamo provato fino all'ultimo, confessa. L'anno scorso eravamo riusciti a compiere un vero e proprio miracolo, ma quest'anno complice il pesante clima di incertezza non ce la siamo sentiti di organizzare una manifestazione che rischiava purtroppo di non rispondere agli alti standard qualitativi a cui abbiamo abituato tutti. Sorpreso e dispiaciuto anche il presidente delle guide alpine della Lombardia, Fabrizio Pina. Il mello blocco era certamente un evento vincente per il turismo, lo sport e più in generale per il mondo della montagna e il suo commento. Questa è sicuramente una grossa perdita per tutti. A guardare con occhio decisamente meno critico questa battuta d'arresto, arriva però la presa di posizione di Luca Maspes, presidente delle guide alpine della Val di Mello. Personalmente avrei fermato mello blocco già l'anno scorso, dichiara. Credo che sia molto importante riuscire a mantenere i livelli eccellenti della manifestazione e se questo non è possibile, una pausa non può che servire per fare il punto della situazione. La Valmasino adesso ha l'opportunità di guardare al suo futuro e decidere cosa vorrà essere, riprende. Si potrà eventualmente ripartire con l'organizzazione di un mello blocco 2019 oppure, come spero, ripensare addirittura la manifestazione in chiave totalmente nuova. Un evento più ampio e stabile, questa l'idea, spalmato lungo tutto il corso dell'anno, che parta dal bouldering ma che arrivi a comprendere tutto quello che il territorio ha da offrire. I giochi sono aperti.